Musica Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Iniziamo dalle quote latte. L'ordinanza di archiviazione del Tribunale di Roma, depositata questa mattina, fa chiarezza sulla lunghissima vicenda delle multe inflitte a tanti allevamenti, parte dei quali nel frattempo hanno chiuso i battenti. Registrate in produzioni milioni di vacche con più di 80 anni e quelle che non avevano mai portorito. Questo è solo uno degli elementi che dimostrano, dopo tantissimi anni, che gli sforamenti delle quote latte che avevano generato le multe per migliaia di allevatori erano frutto di falsità, incapacità, superficialità e connivenze degli uffici di controllo degli assessorati delle diverse regioni italiane. Queste sono le parole contenute nelle conclusioni dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma, che ha archiviato un'inchiesta avviata nel 2009, ma che ricostruisce l'annosa vicenda e indica puntualmente le responsabilità, pur senza giungere all'identificazione dei nomi. Una prima archiviazione, spiega l'avvocato udinese Cesare Tapparo, legale di centinaia di allevatori, tra cui molti friulani, aveva ammesso l'esistenza degli errori di calcolo della produzione, giudicandoli però limitati e marginali. Aveva indicato anche dei reati, ma senza possibilità di individuare i colpevoli. Questa nuova ordinanza fa un passo avanti. Infatti le nuove indagini hanno analizzato anche la catena di controllo e di comando. Nelle conclusioni dell'ordinanza, per la prima volta, si parla di falsità consistenti e rilevanti. Nel frattempo, però, centinaia di allevamenti colpiti dalle multe hanno chiuso i battenti. Tasso alcolemico tre volte superiore al limite massimo consentito. La polizia locale di Pordenone-Cordenons ritira la patente a una quarantenne. Maximulta un centauro senza patente. Esce di strada con l'automobile e finisce contro due auto in sosta. Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore alla norma. Protagonista della vicenda, una quarantenne residente nella città sul Noncello, che ieri sera, verso le 22, in piazzale dei mutilati a Pordenone, ha perso il controllo della propria Opel e ha sbattuto contro altri due veicoli. Sul posto è intervenuta la polizia locale, la quale si accorta che la donna mostrava i segni tipici dell'assunzione di alcol. L'etilometro ha misurato appunto un tasso tre volte superiore al limite massimo consentito per la guida. Alla quarantenne è stata ritirata la patente, decurtata dai 10 punti, ed è stata denunciata per guida in stato di ebrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente stradane. E sempre ieri la polizia locale ha combinato una sanzione record a un trentenne di azzano decimo che, fermato verso le 11 alla guida di un ciclomatore non assicurato, non aveva mai conseguito la patente di guida. L'uomo in passato era già stato sanzionato per le medesime violazioni del codice della strada dai carabinieri di azzano decimo e gli sono state combinate contravenzioni per 7.000 euro complessivi, oltre al sequestro del mezzo. Parliamo di sicurezza. Nel Friuli occidentale arrivano nuovi agenti di polizia, ma per i sindacati non sono ancora sufficienti. Arrivano nuovi agenti per la questura di Pordenone, ma i numeri sono come al solito risicati. Su 2.952 poliziotti che saranno mobilitati in tutta Italia tra luglio di quest'anno e aprile 2020 saranno in 15 quelli destinati al Friuli occidentale. Stessa cifra, insomma, dell'ultimo arrivo, un anno fa. Numeri che soddisfano solo in parte il sindacato FSP Polizia di Stato. In questo momento Pordenone sta soffrendo quella carenza di personale che ha messo in luce anche il ministro. Sono contento che si sia ricordato di noi. Spero che con i prossimi trasferimenti che avverranno a dicembre per questa motivazione riesca a mandare a Pordenone un numero di persone congrue a quello che è da qua 5 anni i tre quarti di poliziotti che andranno in pensione e quindi dovranno essere per forza rimpiazzati. Se no dovremmo aspettarci la chiusura della questura di Pordenone. I 30 arrivi totali inoltre non bastano a compensare i 49 addi motivo per cui anche i consiglieri regionali Conficoni e Bolzonello hanno sottolineato come continui la carenza di uomini a Pordenone. C'è da tenere in considerazione anche questo fatto che ora oltre alla repressione dei reati comuni che avvengono costantemente in città, lo vediamo nelle conferenze stampe, ogni giorno si mette le manette a qualcuno dobbiamo fronteggiare anche questo grave problema, cioè quello di rimpatriare queste persone o semplicemente di riaccompagnarle in centri di accoglienza. Questo però è un grave danno alla questura di Pordenone perché il personale che deve partire da Pordenone si allontana dalla città per uno o due giorni e quindi abbiamo due uomini in meno ancora nella nostra città. Inoltre è arrivata la conferma che l'età media degli agenti pordenonesi si attesta sui 50 anni valore tra i più alti a livello nazionale. Domani a partire dalle 14.30 i dipendenti dei punti vendita di Sacile e Monfalcone di Mercatone 1 manifesteranno davanti alla sede udinese della regione in via Sabadini. Il presidio si terrà in contemporanea con l'incontro tra l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolene e sindacati CGL Cisleuile convocato proprio per fare il punto sulla crisi Mercatone 1. Al centro dell'avvertenza che a livello nazionale coinvolge 55 punti vendita e 2.000 dipendenti con repercussioni anche su un vasto indotto, le richieste di retrocessione della proprietà all'amministrazione straordinaria e il connesso avvio della cassa integrazione straordinaria per tutti i dipendenti. Torniamo in città, presentata oggi la terza edizione della rassegna Pordenoneer che debutterà il 15 giugno. Oltre ai musicisti in piazza anche acrobati e giocolieri. 70 artisti, 9 giornate di esibizione nel corso di 5 settimane in 4 angoli della città. Sono i numeri della terza edizione di Pordenoneer, la rassegna che sta sempre di più diventando un festival e ha fatto diventare il capoluogo del Friuli occidentale un punto di riferimento per gli artisti di strada, non solo italiani. Quest'anno abbiamo deciso di condensare maggiormente la durata che nelle edizioni precedenti era di addirittura 4 mesi. Quest'anno abbiamo deciso di condensare la durata in un mese perché in questo modo abbiamo avuto modo di attirare artisti anche da altre parti d'Italia, elevare leggermente il contenuto qualitativo anche della rassegna e intensificare il numero degli eventi per ogni giornata della rassegna e saranno appunto nuove le giornate in cui si svolgerà. Saranno tutti i venerdì e i sabato dal 15 giugno al 13 luglio. La rassegna quest'anno non si limiterà ai soli musicisti. Sulle strade di Pordenone è anche spettacoli circensi e acrobatici adatti a ogni età. La caratteristica di quest'anno è la presenza di artisti di strada in senso pieno, cioè persone che lo fanno di professione e che vivono facendo questo lavoro, oltre, come negli anni precedenti, ad artisti invece che si mettono in gioco ma in realtà fanno altro nella vita. E poi ci sono degli artisti appunto professionisti anche in discipline che non sono necessariamente musicali. Ci sarà un piccolo circo, qualche nome, c'è il Blink Circus, c'è Chiara Vitale che è una trapezista che viene dall'Umbria. Abbiamo sposato l'iniziativa di estendere leggermente la durata degli eventi, quindi non più un'ora e mezza, due ore, ma qualcosa di vicino alle tre ore. L'inizio sarà alle 18 e si proterrà, a seconda del tipo di eventi, sino alle 20.30-21. Il Comune di Pordenone ha stanziato 4 milioni per manutenzioni e riqualificazioni di 11 scuole. Prosegue così il grande piano di sistemazione dell'edilizia scolastica cittadina, cominciato due anni fa, come spiega il Sindaco Ciriani. Fin da subito abbiamo preso in mano la situazione perché il patrimonio scolastico edilizio era fortemente compromesso. C'erano scuole, quelle che gestiamo noi, quindi asili, scuole elementari, scuole medie, che da decenni non venivano dipinte, che avevano problemi all'interno delle scuole, pavimentazione, bagni, impianti di riscaldamento, di raffrescamento, manutenzione delle aree esterne. Abbiamo investito già parecchi milioni di euro e continuiamo. Alla scuola 4 novembre è in corso la riqualificazione sismica, mentre alle gabelli inizierà il prossimo ottobre, senza interferire con l'attività didattica. Quest'estate invece saranno interessate a sistemazioni varie nove istituti. Le opere più rilevanti riguarderanno la primaria da Vinci di Valle Noncello, tra tinteggiature, serramenti, una nuova aula digitale e altre riqualificazioni. Siamo convinti che investire nella scuola, anche con dotazione tecnologica e con aule 4.0, significa portare la città ad un livello degno di un capoluogo, quindi avere aule belle, pulite, ordinate, che siano adeguate per i nostri studenti, per i nostri insegnanti e ovviamente anche per i genitori. Il Tribunale di Pordenone apre il Wi-Fi. Da fine maggio i cittadini e operatori possono entrare in rete con i propri dispositivi portatili grazie al nuovo impianto realizzato da Insien. Il Tribunale di Pordenone si dota del Wi-Fi. Da fine maggio nel Palazzo di Giustizia della città sul Noncello è partito il servizio che consenterà a operatori e cittadini di collegarsi all'autostrada digitale dai dispositivi portatili. La nuova rete della struttura di Piazza Giustiniano è stata presentata dall'assessore regionale alla Funzione pubblica, Semplificazione e Sistemi Informativi, Sebastiano Callari, e dal Presidente del Tribunale di Pordenone, Lanfranco Maria Tenaglia. La connessione operativa è in sei aree contrassegnate da appositi cartelli, dove gli utenti possono accedere dai loro dispositivi al Wi-Fi regionale previa registrazione. Sono stati installati alcuni apparati di rete e su questi è stata attivata la rete gratuita regionale, con un investimento complessivo di poco superiore ai 5.000 euro. A realizzare il sistema è stata Insiel, che ha curato finora l'apertura della rete libera anche nei comuni della regione. In tutta Italia, come ha entrato Callari, si parla di un progetto Wi-Fi che è in fase di avvio, rispetto al quale il Friuli Venezia Giulia è già molto avanti, avendo già fornito questa infrastruttura a molte pubbliche amministrazioni, tra le quali comuni, istituti scolastici, aziende sanitarie e ora anche il Tribunale. Nell'ottica di un piano di sviluppo dell'innovazione digitale come fattore di crescita, conclude l'assessore, per imprese e cittadini. E partirà domani il nuovo mercato coperto di Campagna Amica di Pordenone. La struttura, alla quale la Coldiretti di Pordenone sta lavorando da alcune settimane, sarà inaugurata alle 17.30 in Via Roma. Il mercato, che sarà aperto il mercoledì e sabato mattina e il giovedì pomeriggio, sarà per i consumatori non solo un luogo dove acquistare prodotti a chilometro zero, ma anche un punto di aggregazione. Per la giornata inaugurale sono previste la raccolta firme a sostegno della petizione Stop Cibo Anonimo con i giovani di Coldiretti, per garantire la tracciabilità obbligatoria della materia prima in tutti i prodotti agroalimentari, l'iniziativa dei volontari di Foxy, che promuoveranno la campagna Abbiamo riso per una cosa seria a sostegno dell'agricoltura familiare in Africa, degustazioni di prodotti tipici, gli agri-chef che spiegheranno come realizzare le loro ricette e diverse attività per i più piccoli. Parliamo di sport ma in maniera molto particolare. Sabato le religioni si sfideranno a calcetto nel campo sportivo di Valle Noncello. L'appuntamento è per le nove, quando inizieranno le amichevoli del secondo torneo di calcio a cinque e religioni unite per i diritti umani. Ad affrontarsi saranno le squadre di Sikh, giovani musulmani, chiesa di Scientologi, chiesa cattolica e membri del rione di Pordenone della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Una manifestazione all'insegna non solo della tolleranza e della diversità, ma anche del fair play. Non ci saranno infatti i direttori di cara in campo. Le squadre utilizzeranno l'auto arbitraggio e ci saranno due arbitri fuori dal rettangolo di gioco per i tempi e per dirimere eventuali controversie. Il torneo è reso possibile anche grazie alla collaborazione dell'Associazione per i diritti umani e la tolleranza ONLUS. Il nostro telegiornale termina qui. Vi do appuntamento a lunedì, sempre alle 20.45. Vi lascio in compagnia di Friul Economy, condotto da Massimo Dell'Iva. Grazie di essere stati con noi e buona serata. Grazie di essere stati con noi e buona serata.